buongiorno appassionati del crimine bentornati sul canale se non ci siamo mai visti io sono andrea e oggi voglio parlarvi di un caso italiano udite udite sono state talmente tante le richieste che non potevo fare altro che accontentarle ma non parleremo di un caso di poco conto bensì della vita di renato vallanzasca uno dei più efferati chiamiamoli così criminali italiani vi parlerò di sequestri di persona rapine omicidi rivolte carcerarie evasioni insomma tutte cose di cui lui si è reso protagonista pertanto c'è davvero molto da raccontare vi ricordo come sempre all'inizio di iscrivervi al canale di lasciare un like qualora vi interessino i miei contenuti e noi iniziamo subito con il raccontare tutta la vita dall'inizio alla fine di quest'uomo dunque cerchiamo prima di tutto di capire chi fosse e chi è in effetti renato vallanzasca lui è nato il 4 di maggio del 1950 all'ambrate un quartiere di milano da maria vallanzasca costantini e osvaldo pistoia quindi vi chiederete perché renato abbia preso il cognome della madre e non del padre come di consueto beh perché in realtà maria era l'amante e non la moglie di osvaldo pertanto le leggi in vigore all'epoca impedivano e avevano impedito a osvaldo di dare a renato il suo cognome lui era già sposato con un'altra donna con la quale aveva avuto altri tre figli e perciò renato aveva preso il cognome della madre osvaldo pistoia era pisano ma si era trasferito in giovane età a torino per andare a lavorare alla fiat ma in seguito a un infortunio che gli aveva portato via due dita si era di nuovo trasferito questa volta a milano dove aveva trovato lavoro nei mercati generali renato fin da piccolo non era mai stato un ragazzino tranquillo per così dire lui aveva sempre abitato con sua madre che gli aveva dato una normalissima educazione ma all'età di otto anni già iniziava a fare le prime marachelle una delle quali era stata più importante di altre insieme a dei suoi compagnetti di scuola e amici aveva visto poco distante da casa sua una tenda da circo e aveva pensato bene di liberare quei poveri animali che appunto si trovavano all'interno delle gabbie questo gesto non era stato affatto preso bene dalle autorità che il giorno seguente mentre lui giocava pallone l'avevano preso e messo in manette portandolo al carcere minorile cesare beccaria ora il carcere minorile è una struttura nata in italia nel 1703 che dovrebbe correggere tramite l'insegnamento gli individui che non hanno ancora raggiunto la maggiore età ed è un luogo in cui bisognerebbe apprendere diversi tipi di arte ma diciamo che non è sempre così è così nella teoria diciamo renato appunto non si era quindi affatto corretto era andato a vivere dalla zia in via apuli a giambellino un quartiere di milano che non era in realtà né la sorella del padre né la sorella della madre bensì era la prima moglie di suo padre osvaldo era molto distante da casa di sua madre dove lui aveva sempre abitato perché era da praticamente due parti opposte di milano ma nel 1965 si era poi iscritto a ragioneria tornando a vivere da sua madre ma renato non aveva affatto perso la sua vena ribelle anzi quando ancora viveva dalla zia era entrato a far parte di una banda una banda che si occupava di piccoli furti di piccole rapine ma si era distinto dagli altri questo perché era sicuramente il più sveglio e il più furbo probabilmente anche il più intelligente di tutti e proprio per questo motivo era entrato a far parte della micro criminalità di milano la ligera questa banda se vogliamo chiamarla così era composta per lo più da truffatori contrabbandieri e rapinatori e alcuni di questi membri sono poi diventati dei celebri banditi poi negli anni seguenti appunto come per esempio francis turatello ugo ciappina enrico cesaroni oppure carlo bollina e lo stesso renato vallanzasca i membri della ligera erano chiamati e soprannominati loc dallo spagnolo loco cioè pazzo ma inteso per lo più come diciamo teppista e non come pazzo cioè persona che ha problemi mentali ma renato era un cane sciolto non gli andava affatto bene essere comandato e così come non gli andavano bene neanche molte delle regole imposte dalla ligera pertanto aveva deciso di di staccarsi da questa micro criminalità per creare una gang tutta sua chiamata anche batteria in gergo non era stata immediata affatto come cosa lui dopo aver abbandonato la ligera aveva deciso di lavorare autonomamente commettendo delle rapine anche talvolta molto piccole ma poi aveva deciso di creare la banda appunto della comasina questo gruppo operava nella zona nord di milano la cosiddetta appunto comasina e proprio per questo motivo i media gli avevano dato questo nome cioè banda appunto della comasina la banda di valanzasca quindi si era poi scontrata diverse volte con quella di francis turatello l'altro membro della ligera che poi aveva deciso di separarsi per formare una gang tutta sua a capo di numerosi traffici che operava in tutta milano valanzasca quindi era a capo della sua gang della banda della comasina appunto ma anche molti altri membri poi in seguito sono diventati fondamentali e importanti e conosciuti come per esempio il pinella pina usuelli compagna del pinella chiamato così proprio perché stava sempre appiccicato alla sua compagna oppure ancora angela corradi poi michele giglio e anche gianfranco casagrande tutti loro erano specializzati in rapine sequestro di persona e anche traffico d'armi dunque questa banda era attiva negli anni settanta e già dall'inizio ogni membro sentava uno stile di vita molto al di sopra della media rapinando continuamente infatti erano riusciti ad accumulare molte ricchezze soldi nello specifico che non si sognavano minimamente di nascondere anzi giravano per la città con vestiti firmati autolussuose facendosi notare anche dalle ragazze e dai ragazzi a seconda se erano uomini o donne i membri della banda e molti cadevano i loro piedi ammagliati da ciò che vedevano da tutto insomma quello sfarzo e a proposito di questo renato aveva dalla sua parte anche il fatto di essere molto bello i suoi occhi azzurri parlavano da soli e era appunto il più ammirato probabilmente di tutta la banda e proprio per questo motivo era stato soprannominato il bel renè ma già nel 1972 qualcosa va storto per renato e suo fratello roberto infatti entrambi sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato due supermercati sono stati arrestati il 29 di febbraio ma le rapine erano avvenute l'una il 15 di gennaio a quarto giaro e la seconda il 14 di febbraio proprio il giorno di san valentino in via monterosa e proprio per questo motivo era stata anche soprannominata a banda di san valentino in questo caso la gang era composta da tre coppie e un singolo che avevano incassato in totale un bottino di ben 78 milioni non senza violenza infatti in entrambi i casi o quantomeno in uno dei due avevano sparato e picchiato alcuni malcapitati pur comunque non uccidendo nessuno oltre renato e roberto i due fratelli rispettivamente di 22 anni e 19 anni era stata arrestata anche una ragazza di nome bipalta pioggia di 17 anni poi anche daniela fontana di 22 anni e bruno un ragazzo polacco di 21 anni poi ancora marinella marchesi di 26 anni e un ragazzo di nome giulio malinois di 25 erano stati arrestati tutti nelle loro case ma solo 10 milioni dei 78 rubati erano stati sequestrati dalla polizia questi perché i restanti 68 erano già stati spesi in cene di lusso club e auto lussuose come per esempio la bmw che renato aveva regalato alla sua fidanzata arrestata anche lei lo stesso giorno quando la squadra mobile di milano infatti era entrata in casa loro renato aveva tentato senza successo di nascondere una pistola all'interno di una scarpa ma anche in realtà la fidanzata aveva tentato di nascondere qualcosa ben 4 milioni di lire e le aveva tentati di nascondere sotto il suo vestito fingendo di essere incinta ma era stata anche lei scoperta subito dopo renato a seguito di questi crimini e dopo il processo era stato condannato a 10 anni di reclusione all'istituto penitenziario san vittore inaugurato nel 1879 ma in poco più di 4 anni aveva cambiato già 36 penitenziari questo perché lui si era reso protagonista di svariate sommosse rivolte e tentativi di fuga fino al tentativo di fuga finale aveva infatti deciso di contrarre volontariamente l'epatite inettandosi per indovena dell'urina e anche mangiando tipo uova marce e quindi era stato trasferito all'ospedale dove poi era evaso era stato infatti grazie a questo escamotage che nel 1976 era stato trasferito proprio nella struttura sanitaria e lì grazie anche all'aiuto di un poliziotto era riuscito effettivamente a fuggire il 23 di ottobre però del 1976 capita qualcosa di inaspettato per tutti infatti l'appuntato bruno lucchesi insieme al suo collega biaggio aliperta erano di pattuglia e ad un certo punto avevano visto sfrecciare davanti a loro una bmw targata milano avevano fermato questa bmw nei pressi del casello autostradale di monte catini terme e lì un giovane al volante si giustificato dicendo di andare di corsa a pisa perché sua madre era ricoverata e aveva anche fatto vedere la sua patente sul documento c'era scritto renato gatti di 30 anni e la foto corrispondeva esattamente al guidatore secondo lucchesi però c'era qualcosa che non andava su questa patente pertanto aveva chiesto al guidatore di seguirli al comando della polstrada ma evidentemente il ragazzo non era d'accordo quindi aveva estratto la pistola e sparato a lucchesi freddandolo mentre invece aliperta se l'era cavata solo con un colpo di pistola alla gamba dopodiché il ragazzo si era diretto a piedi lasciando l'auto verso il casello autostradale e lì aveva preso l'auto di un commercialista di prato minacciandolo con la stessa pistola dopodiché aveva abbandonato anche quell'auto ad alto pascio su questo delitto erano iniziate immediatamente le indagini ma diciamo che poco c'era da indagare perché a quanto pare lucchesi stringeva ancora fra le mani al momento della morte la patente falsa di renato vallanzasca e quindi tutti i sospetti erano ovviamente su di lui ma su questo argomento ci torneremo fra un attimo perché c'è ancora molto da dire a riguardo e però voglio proseguire in ordine cronologico ecco oltre questo episodio diversi altri anche erano capitati durante la latitanza di vallanzasca che aveva ricostruito la vecchia banda e aveva messo a segno ben e oltre 70 rapine oltretutto aveva anche commesso quattro omicidi di quattro poliziotti e oltre questo aveva anche sequestrato quattro persone tra cui Emanuela Trapani la figlia di un imprenditore milanese che poi era stata rilasciata tenuta segregata dal dicembre del 1976 al gennaio del 1977 quindi più di un mese e poi rilasciata appunto in seguito a un riscatto di ben un miliardo di vecchie lire ma in questo caso c'è da fare una specifica due dei quattro sequestri nemmeno erano stati denunciati questo perché tutti i quattro i sequestrati erano stati trattati con i guanti oltre cibo e acqua a volontà Renato aveva dato loro qualsiasi cosa volessero per rendere loro la vita il più tranquilla e pacifica possibile e infatti nessuno aveva detto che lui li aveva trattati male e anzi Emanuela si era anche innamorata di lui. Ancora un mese più tardi quindi il 6 di febbraio del 1977 Michele Giglio, Antonio Furiato e Vallanzasca erano stati fermati ad Almine sempre nel Bergamasco per un controllo di routine nelle loro auto però qualcosa era andato storto e infatti il confronto era finito con uno scontro a fuoco. Durante questo scontro perdono purtroppo la vita tre persone uno è Antonio Furiato l'amico di Vallanzasca e poi ancora gli agenti Luigi D'Andrea nato a San Nicola la strada il 9 di luglio del 1945 e poi Renato Barborini nato invece a San Michele all'Adige il 21 di gennaio del 1950. A entrambi è stata assegnata la medaglia d'oro al valore civile ed è stato dedicato un monumento alla loro memoria a posto proprio dove sono morti. Anche Renato era stato colpito dai proiettili ma era riuscito a scappare e a nascondersi a Roma ma il 15 di febbraio del 1977 sempre era stato poi catturato nella mansarda in cui si stava nascondendo. Quando dai giornalisti gli era stato chiesto il perché si trovasse a Roma lui aveva risposto poi con un sorrisetto tra il simpatico e lo strafottente e aveva risposto appunto perché Roma mi piace amo Roma perché non ci credi? E qui dobbiamo tornare all'omicidio purtroppo di Lucchesi l'ha puntato. Infatti quando Renato era stato appunto catturato aveva confessato senza mezzi termini tutti i suoi crimini, tutte le rapine, tutti gli omicidi, tutti i sequestri di persona ma si rifiutava categoricamente di confessare qualcosa che lui non aveva fatto, di cui lui non era responsabile e cioè proprio dell'omicidio di Lucchesi e lui per di più aveva anche fornito un alibi per quella giornata cioè non poteva proprio essere stato lui. Quel giorno infatti Renato Valanzasca si trovava a Foggia ed era in un albergo dove aveva invitato anche dei membri della squadra di calcio proprio del Foggia per brindare. Aveva comprato dello champagne e aveva brindato insieme a loro che il giorno dopo avrebbero dovuto affrontare la Juventus in campionato. Il giudice quindi aveva convocato in tribunale il tecnico Puricelli e anche alcuni giocatori tra cui Domenghini e aveva chiesto loro se effettivamente fosse vero quello che stava dicendo Valanzasca. Loro avevano effettivamente confermato di trovarsi in quell'hotel, di star brindando ma non di aver visto Renato che appunto per questo motivo era stato poi alla fine condannato all'ergastolo per i suoi crimini. Oltre questo ben due altri pregiudicati si erano autoaccusati dell'omicidio di Lucchesi e uno di questi pregiudicati era Pino Cobianchi che era stato poi condannato per aver ucciso diverse prostitute ma lui aveva anche fornito una sorta di testimonianza o comunque aveva detto che si trovava in quel posto appunto e dove aveva ucciso Lucchesi per portare una patente falsa proprio a Valanzasca che effettivamente si trovava a Foggia. Ad ogni modo né l'alibi di Renato né la testimonianza di Pino Cobianchi erano evidentemente bastati per ritenere Renato non responsabile della morte di Lucchesi, ancora oggi è ritenuto responsabile della sua morte infatti. Ma se devo dirvi la verità non ho trovato da nessuna parte alcuna testimonianza riguardo qualsiasi tipo di cosa che avesse potuto dire Aliperta cioè il collega di Lucchesi che era stato solo ferito a una gamba e pertanto poteva dire la sua se si trattava o meno di Renato ma evidentemente lui non ha rilasciato alcuna testimonianza. Oltretutto mi sembra particolarmente strano il fatto che Valanzasca abbia parlato di tutti i suoi crimini che li abbia confessati tutti ma che non abbia assolutamente voluto confessare l'omicidio di Lucchesi cioè uno in più, uno in meno non sarebbe cambiato nulla qualora l'avesse commesso effettivamente lui. A proposito di questo bisogna dire che Valanzasca si è sempre ritenuto un criminale onesto e infatti lui ha sempre sostenuto di non aver mai sparato per primo e di non aver mai sparato alle spalle e in questo caso nel caso dell'omicidio di Lucchesi avrebbe dovuto necessariamente sparare per primo perché effettivamente i poliziotti gli avevano solo chiesto di seguirli in caserma ed è proprio anche per questo motivo che penso che Renato Valanzasca non sia effettivamente responsabile di questo crimine ma questo è solo un mio parere e ripeto ad ogni modo è stato ritenuto colpevole. Dunque Renato Valanzasca passa altri due anni in carcere e il 14 di luglio del 1979 sposa Giuliana Brusa una ragazza che era perdutamente innamorata di lui infatti Renato a questo aveva ancora solo 29 anni ed era davvero molto bello molto attraente e quando i criminali diciamo sono così belli così di bell'aspetto insomma hanno schiere schiere di ammiratrici tutte innamorate follemente di loro e Giuliana era proprio una delle tante che gli scriveva in carcere almeno inizialmente poi i due evidentemente si erano innamorati e sposati. Giuliana all'epoca aveva appena 18 anni ed era una studentessa al liceo scientifico e in realtà i suoi genitori non erano affatto d'accordo con quest'unione penso che sia abbastanza normale ma a lei non importava affatto lei era pazza di lui non le importava se avesse dovuto passare ogni domenica nei parlatoi del carcere o se suo marito avesse dovuto passare tutta la vita in prigione a lei andava bene così. I testimoni di nozze di Renato Vallanzasca erano stati Albert Bergamelli del clan dei Marsigliesi e poi anche Francis Turatello un suo vecchio amico anche lui membro di un altro clan. Quindi arriviamo al 28 di aprile del 1980 quando Renato Vallanzasca insieme ad altri detenuti durante l'ora d'aria era riuscito a evadere anche dal San Vittore di Milano in cui appunto si trovava in quel periodo. Lui si era impossessato di tre armi da fuoco e insieme ad altri detenuti aveva tenuto in ostaggio il brigadiere romano Saccoccio. Era riuscito appunto come vi dicevo a fuggire, era andato per Milano ma poi alla fine era rimasto ferito dai colpi di pistola appunto dei poliziotti e quindi era stato catturato e riportato in carcere quindi la sua fuga era durata veramente poco. Era stato quindi trasferito al carcere di Novara e nel 1981 si era reso protagonista dell'ennesima rivolta durante la quale questa volta aveva perso la vita un ex membro della sua banda un certo Massimo Loi. Il 20 di marzo del 1981 poi mentre Renato Vallanzasca e Francis Turatello stavano giocando a carte nella loro cella già in pigiama un certo Nino Faro membro della banda dei Catanesi era entrato nella loro cella con un ostaggio e cioè un un agente di custodia. Renato per prima cosa vedendolo aveva detto esattamente questa cosa, gli aveva fatto questa domanda cos'è si va a casa? Ma Nino Faro gli aveva invece risposto che lo sbarbato si trovava in sala giochi e lo sbarbato era proprio Massimo Loi nella stessa prigione nella stessa sezione di massima sicurezza di Vallanzasca. Lui Massimo aveva appena appunto 20 anni, era giovanissimo ed è per questo che lo chiamavano lo sbarbato e diciamo che prima era come un fratello minore per Renato ma poi aveva commesso diversi errori durante alcune rapine ma quello non era il motivo principale per cui Renato Vallanzasca era davvero furibondo nei suoi confronti aveva fatto qualcosa di molto più grave e cioè lo aveva tradito. Massimo Loi infatti aveva condotto due tipi loschi e chiaramente dalla dubbia intelligenza a casa di Osvaldo il papà di Renato lui ormai era più che settantenne e li aveva condotti lì per rubargli ben 100 milioni di lire e per farseli dare avevano pestato questo povero uomo con il calcio del fucile rompendogli la mandibola in più non trovando questo poi denaro alla fine avevano messo a soquadro tutto l'appartamento. Ma per Renato chiaramente il maggiore responsabile di questa vicenda era stato proprio Massimo perché aveva condotto quei due personaggi a casa di suo padre. Vallanzasca quindi insieme a Faro si dirigono nella sala giochi dove insieme a Massimo ci sono altri tre detenuti che subito vengono fatti uscire e rimangono quindi solo nella saletta Renato e Massimo che trema come una foglia poverino perché sa esattamente perché Renato è lì e cerca di abbozzare delle scuse senza riuscendoci poi più di tanto. Massimo continua dicendo che era strafatto non sapeva quello che stava facendo ma Renato non accetta quelle parole non accetta le scuse di Massimo e quindi estrae dalla tasca due coltelli uno glielo lancia a Massimo e uno se lo tiene per sé. Massimo vedendo questo decide di buttarsi a terra e di abbracciare le gambe di Renato cercando di scusarsi ancora una volta ma nulla funziona. Il coltello che Renato aveva lanciato a Massimo cade a terra che non lo vuole assolutamente prendere ma Renato continua a diciamo picchiare o comunque dare delle botte in faccia e nel corpo al povero Massimo. Massimo capendo che non c'è via di fuga e capendo che andrà a finire male decide di raccogliere il coltello ma diciamo che fa il gesto sbagliato perché glielo conficca nella coscia destra a Renato e Renato dice queste parole era questo che aspettavo e lo accoltella quattro volte due allo stomaco un al petto e con un'altra l'ultima gli recide la giugolare. Infatti Renato più di ogni altra cosa aveva deciso che Massimo non dovesse più uscire da quella prigione per ciò che aveva fatto. Inoltre Massimo Loi era anche una spia un pentito e proprio per questo motivo per Valanzasca e anche per gli altri detenuti questa era la giusta punizione. A proposito di questo quindi apro una parentesi questo perché prima ho definito o comunque non solo io Renato come una sorta di criminale con un'etica ed effettivamente è vero perché come vi ho già detto e vi ho già spiegato Renato trattava bene le persone che sequestrava non attaccava mai per primo insomma appunto era definito quasi un criminale gentile e molti di voi in questo caso potrebbero pensare alla faccia meno male che era gentile ha sgozzato il suo migliore amico figurati che gentilezza ma in realtà dobbiamo anche calarci un attimino nel contesto in cui si trovavano questi due personaggi. Prima di tutto Renato Valanzasca aveva lanciato il coltello a Massimo Loi voleva uno scontro alla pari voleva che Massimo si potesse difendere in qualche modo e in più comunque ci dobbiamo sempre ricordare che Valanzasca ormai era un criminale riconosciuto in tutta Italia e anche probabilmente oltre quindi in qualche modo doveva punire Massimo per ciò che aveva fatto perché altrimenti avrebbe perso tutta la sua credibilità cioè tutte le persone che lo seguivano e che avevano fatto sempre di lui un modello avrebbero pensato che si fosse rammollito se non avesse fatto qualcosa per ciò che aveva commesso Massimo Loi. Ovvio che freddare una persona è sempre sbagliato ma questo era per farvi capire fino in fondo il motivo per cui per certe persone va fatto e anzi è quasi doveroso. Detto questo sul corpo di Massimo Loi erano state commesse poi in seguito anche altre atrocità di cui però Renato Valanzasca non si è mai ritenuto responsabile non ha lui non ha fatto niente insomma lui si ovviamente ha ucciso Massimo Loi ma in seguito è stato anche decapitato e con la sua testa molti detenuti ci hanno giocato a pallone ma ripeto Renato ha sempre preso le distanze da ciò che è successo dopo la morte di Massimo Loi. Ma andiamo avanti perché nel 1983 quando Renato Valanzasca si trovava nel carcere di Ascoli Piceno era stato anche accusato da alcuni pentiti di far parte della nuova camorra organizzata conosciuta anche come NCO. Questa era un'organizzazione criminale attiva negli anni 70 a stampo mafioso creata e nata da Raffaele Cutolo. Cutolo aveva creato questa organizzazione quando si trovava al carcere di Poggio Reale a Napoli insieme ai suoi compagni di cella. Raffaele Catapano, Pasquale D'Amico e Michele Iafulli. Durante il maxiprocesso NCO poi Renato però aveva chiarito la sua posizione. Aveva detto che inizialmente fosse stato malmenato da un membro del clan e cioè Procida e che poi in seguito Cutolo avesse ammonito Procida per la sua azione perché aveva appunto picchiato un detenuto che non faceva parte dei loro affari. Cutolo poi aveva promesso a Valanzasca di avere delle soddisfazioni per ciò che gli era capitato di insomma poter pareggiare i conti ma evidentemente queste soddisfazioni tardavano ad arrivare quindi Renato era andato direttamente da Cutolo per ricordargli la promessa fatta. Il boss però che voglio sottolineare essere molto più importante sotto questo punto di vista ovviamente di Renato Valanzasca perché era un boss con tantissime persone al seguito non aveva preso bene questo fatto il fatto che Valanzasca fosse andato da lui per ricordargli ciò che lui gli aveva promesso. Per lui era una sorta di affronto e quindi aveva schiaffeggiato Renato che però questa volta non se le era solo fatte dare infatti aveva ferito Cutolo a un occhio e gli aveva anche rotto un polso. Giovanni Pandico era uno dei tanti pentiti che aveva quindi accusato Valanzasca di far parte della nuova camorra organizzata. Giovanni Pandico era un uomo abbastanza violento sì oltretutto era anche affetto da disturbi psichiatrici e aveva dato fuoco a una caserma dei carabinieri e tentato di uccidere i genitori della sua ex fidanzata. Ora la NCO si era scontrata all'inizio degli anni 80 contro la nuova famiglia, un'altra organizzazione. Ma siccome la NCO sembrava destinata a soccombere molti membri della NCO si erano pentiti e avevano appunto deciso di collaborare con la polizia. I tre pentiti principali erano appunto Giovanni Pandico, Melluso e Barra e tutti loro avevano testimoniato. Grazie alla loro testimonianza le forze dell'ordine erano riuscite a fare un blitz il 17 di giugno del 1983 arrestando ben 856 persone. Quindi per ricapitolare e per fare un po' di ordine che cosa era successo. I pentiti avevano accusato tutti, c'era stato il maxi blitz e poi c'era stato il processo agli affiliati NCO, avvenuto tra il 1985 e il 1987. E uno degli accusati era proprio anche Renato Vallanzasca, anche insieme a sua moglie Giuliana Brusa, accusata di far entrare in carcere delle armi. Ma come vi dicevo prima, Vallanzasca aveva chiarito la sua posizione dicendo di aver avuto solo qualche battibecco contro qualche membro della NCO ma di non far parte, di non aver mai fatto parte in alcun modo di quell'organizzazione e in più di non aver assolutamente bisogno di un camorrista per riuscire a evadere. Era perfettamente in grado di farlo da solo. Alla fine del processo Vallanzasca e sua moglie per mancanza di prove poi alla fine erano stati assolti. Subito dopo questo processo poi Vallanzasca non perde assolutamente tempo e decide di tentare la sua terza evasione. Era il 18 di luglio del 1987 quando Vallanzasca doveva essere trasferito dal carcere in cui si trovava al carcere di Nuoro. Quindi era salito sul traghetto, scortato ovviamente dalla polizia ed era fuggito da un oblò, facendo letteralmente fessi non uno non due ma ben cinque agenti di custodia. Nonostante la fuga però Renato effettivamente si ritrova senza il becco di un quattrino e senza alcun appoggio e l'8 di agosto del 1987 viene fermato e arrestato di nuovo in un posto di blocco a Grado in Friuli Venezia Giulia. Passano altri tre anni e a settembre del 1990 Giuliana e Renato divorziano, divorziano di comune accordo senza litigate furibonde. Questo perché comunque tra di loro, nonostante loro fosse stato un grande amore, era ormai finita la passione e il loro comunque matrimonio, il loro rapporto non era mai stato un vero rapporto a 360 gradi perché ovviamente Renato era sempre stato in carcere, al di là di qualche evasione durata anche ben poco. Passano altri cinque anni durante i quali Valanzasca si trova nel carcere di Nuoro, tra l'altro carcere in cui lui si trova malissimo e nel 1995 tenta nuovamente la fuga, è solo un tentativo, non riesce a scappare e viene accusata di averlo fatto evadere o di aver cercato di aiutare a farlo evadere, la sua stessa legale. Una donna con cui si vocifera che Valanzasca avesse dei rapporti che andassero oltre allo stretto rapporto professionale, ma appunto sono solo voci di corridoio mai confermate. Sa di fatto che Valanzasca nel 1999 si trova a Voghera. Si trova nella sezione di massima sicurezza quindi c'è poco da fare, pochi tentativi di evasione perché è impossibile o quasi impossibile evadere e infatti resta lì fino al 2005 quando ha un giorno di permesso speciale per andare a trovare sua madre che è gravemente malata in ospedale. In quell'occasione Renato aveva formalizzato una richiesta di grazia da mandare al ministero di grazia e giustizia e poi nel 2006 a luglio anche sua madre Maria aveva cercato di aiutare suo figlio nello stesso modo. Aveva infatti mandato una lettera sia all'ex presidente Ciampi che a Mastella. Il 15 di settembre del 2009 però la richiesta di grazia era stata negata e quindi Valanzasca aveva dovuto continuare a trascorrere i suoi anni in prigione ormai alla prigione di Opera a Milano. Anche altri personaggi anche abbastanza importanti avevano chiesto per lui la grazia tra i quali Massimo Fini un giornalista dicendo di dovergli la sua onestà intellettuale. Infatti durante quella visita al balconcino a Roma quella di cui vi parlavo prima durante il quale appunto avevano chiesto dei giornalisti a Renato perché si trovasse a Roma e lui aveva risposto perché gli piaceva la città. Un altro dei giornalisti gli aveva chiesto se si sentisse per caso una vittima della società. Renato aveva risposto semplicemente non diciamo cazzate. Massimo Fini già per questa risposta gli avrebbe concesso la grazia aggiungendo poi che appunto Renato era sempre stato più che onesto nel senso aveva sempre ammesso tutte le sue colpe e non si era mai nascosto dietro un dito avanzando scuse assurde. Inoltre teniamo ben presente che Valanzasca in 50 anni e oltre di carcere. Sì è vero ha fomentato rivolte, è stato protagonista di molte rivolte ma ha anche subito davvero tanti pestaggi da parte degli agenti di custodia. Pestaggi di cui lui non si è mai lamentato neanche una volta. Massimo Fini quindi ha sempre mantenuto la sua posizione dicendo queste testuali parole. Leggo perché non me le ricordo. Un bandito onesto in una società dove troppo spesso gli onesti sono dei banditi. Massimo Fini ha scritto una lettera per richiedere la grazia al presidente napolitano e voglio leggervela tutta perché riassume perfettamente tutto ciò di cui vi ho parlato finora. Al presidente della repubblica italiana onorevole Giorgio Napolitano. Signor presidente mi permetto di rivolgermi a lei con questa lettera aperta per chiederle di vagliare la possibilità di concedere la grazia al cittadino italiano Renato Valanzasca nato a Milano il 4 di maggio del 1950 attualmente detenuto nel carcere di opera. Il Valanzasca è stato condannato a due ergastoli e ad altri 90 anni di reclusione per una serie di furti, rapine, sequestri di persone e anche di omicidi di agenti di polizia consumati però sempre a viso aperto in scontri a fuoco potendo egli stesso essere ucciso e non in vili agguati sotto casa mandando magari altri a fare il lavoro sporco e pericoloso. Il Valanzasca non ha solo lealmente ammesso le proprie colpe ma si è anche addossato in più occasioni le responsabilità di delitti per i quali erano stati incriminati degli innocenti dando così un suo contributo non marginale alla giustizia. Del pari non ha mai ceduto al malvezzo oggi così diffuso anche fra gli autorevoli e gli autorevolissimi rappresentanti delle istituzioni di accusare polizia e magistratura di complotto non si è mai messo come diventata anch'essa deplorevole abitudine a cercare prove contro i suoi giudici non ha mai lamentato torture psicologiche e fisiche per il solo fatto di essere in carcere né si è mai messo a fare il pianto greco alla scoperta che una cella non è un salotto. Si è insomma sempre comportato con dignità dando a vedere di essere consapevole che aveva un conto da pagare alla giustizia e alla collettività. Eppure la carcerazione di Renato Valanzasca è stata durissima passato 11 anni in isolamento. 11 anni signor presidente quando ai detenuti di Tangentopoli o similari sono bastati 4-5 giorni di questo regime per gridare all'infamia, invocare Amnesty International e per ricattare la collettività midacciando di togliersi la vita. A differenza di altri detenuti che hanno potuto fare della loro cella una redazione di giornale o un set televisivo a Valanzasca è stato negato anche il computer e poiché non assanti in paradiso ha subito più volte botte e pestaggi mentre i medici che lo avevano in cura venivano intimiditi perché nulla trapelasse. Solo una volta dopo 20 anni di carcere di questo tipo all'indomani di un pestaggio particolarmente brutale il Valanzasca poiché nessuno si levava a difendere i suoi diritti ha scritto una lettera di protesta ma nemmeno in questa occasione si è atteggiato a vittima e a un giornalista che gli chiedeva se fosse stato torturato ha risposto beh adesso non esageriamo. Risposta che fa da paio con quella data dal famoso balconcino il giorno della sua prima cattura. Gli chiedevano infatti se non si ritenesse una vittima della società e lui aveva risposto non diciamo cazzate e già solo per questo ai miei occhi meriterebbe di essere liberato. Una lezione per allora ma anche per oggi in un'epoca di perbenismi di buonismo di indulti di amnestie mascherate di prescrizioni altrettanto mascherate dove nessuno accetta di assumersi le proprie responsabilità che sono sempre altrove nella famiglia nella società nel così fan tutti nel perché proprio io. Come dimostra anche la penosa vicenda di Tangentopoli i cui protagonisti hanno fatto di tutto per mischiare le carte trasformandosi in martiri della libertà in giudici dei loro giudici e ad alcuni dei quali condannati in via definitiva per aver taglieggiato e concurso vengono ora intitolate vie, piazze e giardini. E quell'altra incresciosa storia possibile solo in Italia di un detenuto condannato per l'assassinio di un commissario di polizia che ci fa ogni giorno la morale dalle pagine dei più importanti giornali nazionali. Come le dicevo signor presidente il Vallanzasca ha una sua etica sia pur malavitosa. La ragazza Trapani la trattò con garbo e quando le gazzette cominciarono a insinuare che fra lui e la giovane c'era una love story replicò seccamente sono tutte balle inventate dai giornalisti. Laddove come lei signor presidente che un uomo di mondo ben sa nella società delle cosiddette persone per bene a domande del genere se soliti rispondere con sorrisetti d'intesa e frasi ambigue del tipo non fatemi parlare sono un gentiluomo. Inoltre pur essendo nella posizione migliore per farlo il Vallanzasca si è sempre rifiutato di entrare nel mercato della droga e a questo proposito ha dichiarato non giudico né chi ne fa uso né chi spaccia non sono cose che mi riguardano ma con la droga non voglio avere nulla a che fare. Infine ed è la circostanza più importante a differenza di altri detenuti per la concessione della cui grazia peraltro non richiesta dall'interessato si levano infinite voci ben più autorevoli della mia e che hanno scontato una parte minima della loro pena Renato Vallanzasca è in galera da più di 30 anni. Ha peccato molto è vero ma mi pare di poter dire che ha espiato anche molto dimostrando oltretutto a differenza di altri di riconoscere la potestà dello Stato e il suo diritto a giudicarlo e punirlo. È un bandito d'altri tempi di stampo ottocentesco quando la malavita aveva regole dignità e codici d'onore ed era lo specchio rovesciato e malato di una società liberale dove regole e dignità e onore avevano il primo posto. La malavita di oggi invece si tratti di mafiosi, di camorristi, di criminalità organizzata ma anche di rider della finanza, di tangentisti, di concussori, di corruttori, di colletti bianchi corrotti, di ladri in guanti gialli non ha né regole né dignità né onore. E una malavita senza dignità né onore non può che essere lo specchio e il prodotto di una società senza dignità e onore. Tanto è vero che il confine fra malavita e ciò che non lo è si è venuto facendo in questi anni sempre più indefinibile e molti di coloro che oggi sono sotto processo hanno un piede in tribunale e l'altro nell'imprenditoria, nel mondo finanziario, nella politica, in parlamento se non addirittura nel governo e nei suoi vertici. E non c'è criminale più spreggevole di quello che delinque sotto il manto della rispettabilità e proteggendosi con essa. Non c'è moralità più grande di quella di chi pretende rispettabilità sapendo di non meritarla. Renato Valanzasca al contrario è sempre stato un delinquente avviso aperto. Oso dire, signor presidente, che in questo immondezzaio che è diventata la vita pubblica e privata del nostro paese fa la parte dell'uomo morale, sia pur a modo suo. E' un bandito onesto in una società dove troppo spesso gli onesti sono dei banditi. Dunque andiamo avanti con la vita di Renato. Lui si sposa l'8 di maggio del 2010 con una donna di nome Antonella D'Agostino, una sua amica di infanzia. Si sposano con rito civile mentre ancora ovviamente Renato Valanzasca si trovava all'interno del carcere. L'8 marzo del 2010 poi ha avuto un beneficio, infatti poteva usufruire del permesso speciale per poter andare a lavorare. Stava all'esterno del carcere dalle 7.30 del mattino fino alle 19 ma ad un certo punto questo permesso gli era stato revocato. Questo perché lui invece che andare a lavorare o comunque andava a lavorare ma nel frattempo faceva anche un'altra cosa. Andava a trovare una donna, non sua moglie, quindi in sostanza stava anche tradendo sua moglie e stava sfruttando il beneficio dell'orario fuori dal carcere per fare qualcosa che effettivamente non poteva fare. Questo beneficio gli era stato tolto il 30 di maggio del 2011 e sempre a maggio del 2011 la Corte di Cassazione lo aveva condannato a dover pagare le spese di mantenimento in carcere. Aveva lavorato per una pelletteria in precedenza e anche per un negozio di abbigliamento ma poi nel 2012 questo permesso gli era stato riconcesso ed era andato a lavorare in un magazzino per un magazziniere. Dal luglio del 2012 infatti il titolare si era reso disponibile per un progetto rivolto ai carcerati che prevedeva un impiego per un periodo di tempo ben definito con l'intento di dare loro un'occasione per ricostruirsi un presente e un futuro ma Renato perde il lavoro a causa di una protesta popolare perché la famiglia dell'agente Barborini morto in uno scontro a fuoco con Vallanzasca non voleva il bandito così vicino. Il permesso quindi gli era stato di nuovo revocato questo perché ovviamente non c'era motivo per il quale lui dovesse stare all'esterno del carcere senza avere un lavoro e la revoca di questo permesso gli era costata un bel po' perché lui mentre era fuori stava cercando di mettere su e ci stava quasi riuscendo un commercio di mozzarella a Milano insieme a un uomo che faceva parte del gruppo camorristico dei Perfetto che era un clan nato dal ex clan La Torre di Mondragone. Il primo di dicembre del 2012 però questo permesso di nuovo gli viene concesso e lui inizia a lavorare in una ricevitoria quindi lui la mattina parte dal carcere di Bollate e si dirige proprio in centro di Milano in via Santa Maria Segreta. Il 13 giugno del 2014 però quando lui era in regime di semilibertà Ballanzasca pensa bene di commettere un'altra rapina e pertanto viene di nuovo ricondotto in carcere ovviamente il permesso gli viene di nuovo revocato e viene anche processato per direttissima. Questa volta stavo usufruendo a dire il vero di un permesso speciale di tre giorni e mentre era fuori era andato all'esse lunga al supermercato in via Umbria dove l'agente dell'antitaccheggio l'aveva fermato proprio all'esterno dopo aver pagato e l'aveva beccato con due paia di mutande, una cesoia e anche un sacchetto di concime. Questi oggetti non li aveva pagati pertanto era stato appunto riarrestato. Durante il processo il suo avvocato difensore Deborah Piazza aveva sempre messo le mani avanti diciamo in un certo qual modo perché aveva sempre detto che il suo assistito non avesse mai rubato niente e infatti Ballanzasca aveva sempre sostenuto che quella borsa nella quale avevano trovato questi oggetti non era di sua proprietà. Ad ogni modo il 14 di novembre del 2014 era stato ritenuto colpevole di questo ennesimo crimine e quindi condannato a dieci mesi di carcere più 330 euro di multa da pagare da sommare agli altri quattro ergastoli. Questo piccolo furto sempre ammesso che lui l'abbia commesso gli è costato qualsiasi tipo di beneficio. Infatti il 18 di aprile del 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rifiutato e negato categoricamente qualsiasi tipo di libertà condizionale o semilibertà. Anche se c'è da dire che il suo avvocato Steccanella aveva anche portato all'attenzione dei giudici una relazione scritta formalmente firmata da un'equip di esperti che avevano sostenuto il profondo cambiamento sia intellettuale che emotivo di Vallanzasca. Ma nulla era servito, infatti i giudici avevano sostenuto che non fosse possibile ravvisare in lui quel requisito del sicuro ravvedimento previsto dalla legge per ottenere la libertà condizionale. Nell'ottobre del 2018 poi i coniugi Vallanzasca hanno deciso di divorziare ma nonostante questo la ex ormai moglie Antonella ha sempre cercato e ancora oggi cerca di lottare per far uscire Vallanzasca dal carcere. Questo perché al di là del matrimonio li legava una profonda amicizia, infatti i due si conoscevano dai tempi dell'asilo. Dal 2018 a Vallanzasca vengono negate costantemente e periodicamente qualsiasi tipo di semilibertà o di libertà condizionale. Quindi a tutti gli effetti la sua è una fine pena mai, cioè l'ergastolo. Questa denominazione, cioè fine pena mai, deriva da una formula riportata sui certificati dei detenuti che sono stati appunto condannati e viene riportato appunto la data di inizio e la data di fine della della condanna. Proprio per questo motivo siccome per gli ergastolani non c'è una data effettivamente di fine della pena viene riportata la dicitura fine pena mai e indica quindi il fatto che il debito con la giustizia non verrà mai ripagato. Oppure in certi casi viene anche riportata la dicitura fine pena 31 dicembre 9999 che è esattamente la stessa cosa. Sempre a proposito di Vallanzasca gli sono stati assegnati diversi soprannomi come per esempio come già vi dicevo prima il berrenè che da quello che ho capito non gli andava molto a genio e non è anche gli va molto a genio ancora oggi per ovvi motivi anche il boss della comasina e poi anche il bandito dagli occhi di ghiaccio. Nel 2010 su Renato Vallanzasca è stato anche girato un film intitolato gli angeli del male un film del 2010 con regista Michele Placido e ancora Renato Vallanzasca ha anche scritto un libro in collaborazione con Leonardo Cohen un'autobiografia intitolata i fiori del male. Ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video interminabile spero l'abbiate trovato interessante io personalmente tantissimo non mi vergogno minimamente a dire che ho empatizzato tantissimo con questo criminale che come ho detto più volte e non è una cosa che penso solo io sia un criminale onesto lo so è difficile da comprendere come cosa ma è così questo è quello che mi ha trasmesso ci tengo a precisare ovviamente che il fatto che abbia assassinato più persone lo trovo abbastanza raccapricciante e poco onesto ma diciamo che per tutto il resto quantomeno si è sempre preso le sue responsabilità e questo ci tengo davvero a sottolinearlo. A proposito di questo voglio anche farvi presente una frase che lui ha detto e cioè che se tornasse indietro eviterebbe alla stragrande di commettere determinati gesti e io penso che si riferisse al fatto di aver commesso degli omicidi presumo voglio sperare ad ogni modo appunto questa frase più il fatto che degli esperti hanno detto che fosse cambiato mi portano a pensare che probabilmente l'abbia fatto che probabilmente sia effettivamente cambiato. Molto spesso abbiamo visto nel corso dei video che ho fatto ma anche di tutti gli altri insomma di tutti gli altri casi in giro per il mondo che appunto sempre quasi tutti i criminali tendono a nascondersi dietro un dito tendono a negare le loro responsabilità ecco questo Renato Vallanzasca non l'ha mai fatto si è sempre fatto vedere a viso aperto per ciò che era detto questo noi ci vediamo come sempre al prossimo caso true crime fatemi sapere che cosa pensate di Renato Vallanzasca mi dispiace solo di non avere il libro perché l'ho comprato ma non è ancora arrivato perciò il libro il libro di Renato Vallanzasca ciao a tutti ragazzi grazie per essere rimasti con me per tutto il tempo di questo video infinito e noi ci vediamo al prossimo caso ciao a tutti ciao a tutti